e buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti non dai con sti capelli da punk sono michele 3146 e oggi giochiamo con formula freddo formula 1 30 34 cavo il cavetto si il cavetto si ok bye forza forza andiamo andiamo dai dai yo dai io Sì Sì un regalo Oh! noi vediamo qui qui ci siamo ok ci siamo a cercare facciamo la botagna a dire a metà senza di l'amore 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 il l'amore 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 la Domenica di gara qui a Silverstone. Le monoposto sono quasi pronte, quindi andiamo a raggiungerle in pista per l'inizio della gara. Situato 8 chilometri da Toaster, il Tempio dell'Automobilismo Britannico comprende 18 curve lungo 5,7 chilometri di circuito. Silverstone ha subito diverse modifiche nel corso della sua storia e ora il rettilineo di partenza porta direttamente alla api, la prima curva destra da affrontare in velocità. Resiste la celebre serpentina che segue la decima curva, la cosiddetta Meckles. E ora analizziamo la griglia di partenza. Ora analizziamo la tua voce di tre. Grazie. Sono pazienti, non fatti da casa. Ah, è quella griglia. C'è una pezzazione, ragazzo. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Ah, non è solo uno, solo due qui, va bene, devi regalare il pettone. Grazie a tutti. 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 Ah, là fuori eri in una categoria tutta tua. Una gara magnifica. oggi l'art conquista un'altra vittoria fantastica vediamo spesso piloti che guardano la gara sugli schermi quando sono in testa e hanno vantaggiato tempo penso proprio che lo stesse facendo oggi sai art grand prix la scuderia francese che dagli anni 90 si è fatta strada nel mondo dell'automobilismo è ancora una volta in cima al bambino merito di una condotta di gara strabiliante ogni gara è una storia a sé chissà cosa in servo per noi il prossimo capitolo di questa fantastica competizione l'appuntamento è sempre qui con F1 World Grazie. 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 ragazzi la live è finita e ci sentiamo più in là dopo forse stasera la michel è 3146 la pulita al joystick, GameStop e ciao 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 ragazzi ciao ciao